benvenuti amici vapers benvenuti canale youtube allisvapo e io sono mister nino tata trattino basso tnt ho in mano un piccolo gioiellino filmato vanity mod si chiama aria box bf mospettata aerografata dal maestro td custom ha utilizzato per la costruzione materiali di primissima qualità a partire dalla tazza alle lamelle ragazzi vela descrivo in recensione subito dopo la sigla ed in questo cofanetto nero dove impresso c'è il logo del brand vanity mod viene ospitata aria qui al lato ci indica l'apertura a scatto del cofanetto nel lato più lungo riporta il nome del brand vanity mod e dietro il modello aria il numero seriale 30 i loro social e qui questo prodotto non è da intendersi per uso con nicotina andando ad aprire la confezione troviamo l'alloggio per la box aria ed una boccettina bf che sarà inserita al suo interno un set di wrap per batterie ed una chiavetta esagonale a brucola che servirà esclusivamente per andare a regolare il pin della nostra tazza un certificato di autenticità firmato vanity mod con la data di produzione il numero seriale il modello e la firma del modder qui al lato vietato l'utilizzo al pubblico minore di 18 anni tenere fuori dalla portata dei bambini il presente dispositivo non rispetta i requisiti del decreto legislativo numero 6 del 12 0 1 2016 articolo 21 comma 7 pertanto non può essere utilizzato con liquidi contenente nicotina ad ogni uso improprio del dispositivo non si terrà vanity vapor mod responsabile ed infine si presenta con un carinissimo biglietto da visita dove dietro il suo contatto whatsapp una mail per info ed infine dove possiamo trovarlo su facebook eccola qua una mod ragazzi veramente veramente leggera adesso sembra andarsi a perdere praticamente con il disegno del tappetino gommato che ho sotto comunque ve la faccio vedere in tutte le sue parti lavorata veramente bene ed ha delle misure veramente ridotte infatti parliamo di un 75 mm x 40 dove la larghezza massima arriva a 24 mm dalla parte più alta monta una tazza vapor bagar smart 14 mm palladio rodio al suo interno viene alloggiato un chipset bomberino ma e studio una versione v2 con un circuito diverso monta delle lamelle 999 steam blade full argento ciò significa che avrà un'ottima conduzione infine l'aerografia che vedete tutto intorno ve la faccio vedere per bene è eseguita in collaborazione con td custom il logo vanity mod qui invece impresso la scrittaria qui invece riporta il tasto fire che non è per niente esposto alla box anzi a è leggermente incassata al suo interno sentire il suo click di attivazione del mosfet benissimo quindi dovremmo fare un'ottima pressione per attivare l'erogazione ciò significa che anche per un trasporto sarà difficile per urti accidentali di andare ad attivare la box le saldature al suo interno sono in argentana materiale privo di piombo il corpo box è in nylon p 66 black born di derivazione automotive tedesca è una miscela di polimeri neri che fanno nascere la box nera e morire nera ciò significa che tutto il corpo batteria sarà più resistenza e più leggero non vi sono per altro coloranti o additivi aggiunti il processo di stampa invece è in sls il pesa vuoto con boccetta ragazzi è di soli 27 grammi la boccettina data in dotazione invece è una pagoda di m come potete vedere da una parte è piatta e invece l'altra è stondata ciò significa che andrà perfettamente inserita lungo il suo alloggio allora cosa di particolare questa boccettina innanzitutto la sua consistenza non che abbia già del liquido presente al suo interno innanzitutto bisogna fare una leggera pressione per andare a sfilare il tutto poi vi voglio far notare all'interno del tubicino è inserito questo supporto in metallo dove ci aiuterà a pescare fino all'ultima goccia allora non c'è bisogno di andare ad inserire liquido perché io già l'avevo inserito in precedenza e quindi andiamo ad inserire direttamente la boccettina all'interno della mod ha un alloggio specifico vi faccio vedere come se avete difficoltà nell'inserimento potete agevolarvi con una pinzettina del genere affinché non trovi il suo alloggio comunque viene fornita direttamente con la giusta distanza con il giusto taglio necessario voi non dovete far altro che mettere il liquido ed andare ad inserire la boccettina qui al suo interno invece c'è l'alloggio per la batteria 18650 dove chiaramente specificato in che modo il polo va inserito quindi polo positivo rivolto verso il basso qui come vi dicevo la lamella segue perfettamente un binario scavato forse vi posso dire che è leggermente morbido però vi posso assicurare che una volta inserita la batteria 18650 il tutto viene fermato senza problemi ecco qui qui abbiamo la mod pronta per la sua erogazione allora vi faccio vedere una cosa qui dall'alto c'è questo disegno e la mod ha credo un millimetro di spessore in meno rispetto all'uscita della batteria questo perché perché il mod era pensato che quel millimetro in meno agevola facilmente l'estrazione della batteria nonché già la batteria sia ben inserita e ben salda vi faccio notare la linea armonica di tutto il dispositivo davanti e dietro quello che vi stavo dicendo che per l'estrazione della batteria quel millimetraggio in più avrebbe dato difficoltà o avrebbe spellato la nostra batteria in questo modo invece ha pensato di agevolare l'estrazione nel caso avessimo necessità di sostituirla adesso vado a mettere il mio atomizzatore vi faccio vedere lo squonk come possa essere ottimale in questo video ho intenzione di utilizzare un deflave 22 con le coil del maniscalco ho benissimo l'ho rigenerato da poco il cotone è pulitissimo ed infatti volevo dar dimostrazione a tutti quanti voi la modalità di squonk come poteva essere ottima e duriforme adesso vado a fare una leggera sconcata il liquido entra perfettamente da sotto la coil entra nella tazza ha fatto un ottimo risucchio nonostante non abbia la boccetta piena io credo che con una io sto facendo una leggera pressione due tre sconcate la nostra mod possa essere pronta per il suo utilizzo attendiamo qualche secondo che il liquido venga assorbito dal cotone e vi faccio vedere l'attivazione della stessa faccio presente liquido utilizzato in questa recensione l'ottimo janero di ls project abbiamo bagnato il cotone l'attivazione ve la faccio vedere è subito reattiva è veramente molto molto aggressiva quindi ad ogni mia richiesta di attivazione il corpo batteria si comporta veramente molto bene ha una reattività veramente molto sorprendente io vado a risconcare il liquido entra e va a bagnare perfettamente vi voglio far notare una cosa la vista da sotto del corpo batteria una volta inserita la boccettina non avrà possibilità di uscire io vi assicuro che la buona presa della boccetta sarà veramente difficile che si estragga da sola allora questa è tutta la mod in questione ragazzi ve la faccio vedere mano è piccolissima è bellissima e compatta faccio presente che ci sono anche diverse colorazioni a seconda di quello che preferite io ho scelto di frappare una mia batteria consiglio l'utilizzo sony vtc 5 o vtc 5 a girando a 180 gradi abbiamo invece la scritta il rosso sulla app vanity mod voglio andarla ad utilizzare e darvi le mie considerazioni finali aria by vanity mod una mod progettata per tutti i tipi di dispositivi a partire dal tiro di guancia come la sto utilizzando io che credo che il bomberino sia veramente al top in flavor o se volete potete utilizzare atomizzatori per il cloud l'unica cosa che vado a discutere sulla costruzione di questa box è la scelta del bomberino questo perché perché il bomberino non si può spengere e questa la trovo una cosa un po' scomoda comunque come vi dicevo il brand vanity mod sta studiando un nuovo dispositivo sta testando un chipset mosfet che ha le stesse dimensioni del bomberino ma con delle caratteristiche assolutamente migliori peraltro chiunque abbia già acquistato un sistema aria può effettuare l'upgrade senza assoluti problemi e questo è un vanto che voglio dire a vani di mod ancora aggressiva sin da subito ad ogni mia richiesta la box veramente si perde tra le mani ragazzi è veramente piccola e compatta è leggerissima mi piace la semplicità nel disegno e come è stata aerografata dal maestro td custom ne ho viste qualcuno un po particolari con della colorazione viola con la colorazione rossa ragazzi vanity mod sta facendo veramente prodotti molto interessanti conoscevo i suoi prodotti che lui espone nelle fiere è un brand che sta crescendo piano piano ed ho sempre apprezzato i suoi lavori adesso ho portato a recensione questa box perché era tra le tante quella che più ha suscitato il mio interesse vi invito ad andare a visitare la sua pagina perché ha tante cose interessanti che sta offrendo sul mercato io vi ho detto uno la lamella interna si muove leggermente nonché abbia un piedino a tenerla fissa però con l'inserimento della batteria viene bloccata quindi abbiamo risolto il problema lo spessore di un millimetro che qui viene a mancare stato fatto appositamente per agevolare l'estrazione della batteria però comunque non è detto che nella versione v2 il modder possa studiare che lo allunghi un pochettino questo lo staremo a vedere ospita una tazza vapor bagarre smart 14 in palladio rodio quindi di assoluta qualità lamella argento full argento ragazzi quindi estremamente conduttiva ha usato materiali veramente ottimi per la costruzione di questa box alla fine è uscito un prodotto che ha suscitato l'interesse di tante persone ha avuto grandissimo successo alla fiera ex vapo 2019 di napoli ed infatti è lì che l'ho presa allora amici il pin regolabile quindi è adattabile a tutti i dispositivi io nel mio deflave ci ho messo anche un anellino estetico consiglio a mio avviso di utilizzare atom da flavor magari proprio con delle coil complesse perché la box da il massimo di se stessa a seconda della coil che voi montate avrete veramente quello che più ne avete bisogno e che cercate in una box vi ho dato le mie considerazioni personali aspetto invece sotto il video di youtube ragazzi i vostri commenti su aria by vanity mod concludo qui il video con questa svapata vi invito pertanto a lasciare un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale youtube all'isvapo qualora non siete iscritti mi trovate anche su instagram basta fare una ricerca all'isvapo o una pagina facebook basta lasciare un like se vi fa piacere io vi saluto e vi ringrazio per aver visto questo video ci vediamo pertanto sul canale per la mia prossima recensione saluto a tutti quanti ciao mister nino